Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar organizzato da Boscolo Tour. Oggi siamo nelle antiche città dell'Anello d'Oro. Vi presento Salvatore Sicuso, direttore vendite Boscolo Tour. Buongiorno Salvatore, a te la parola. Buongiorno a tutti al nostro consueto appuntamento ormai del venerdì. Oggi parleremo della Russia e in particolare della città dell'Anello d'Oro. Con noi c'è il nostro responsabile di prodotto Marta Rivoltella. Ciao Marta, benvenuta. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Bene, come al solito siamo tantissimi, ormai è un appuntamento che stiamo replicando da qualche mese. Non perdo tempo, ti lascio la parola e ci sentiamo fra un pochino. Buon webinar. Ok, allora buon pomeriggio a tutti. Appunto io sono Marta Rivoltella e sono la product manager in Boscolo per quanto riguarda la Russia. Oggi abbiamo appunto un'altra attività di aggiornamento e parleremo appunto di questa zona di interesse turistico insomma della Russia che è le città dell'Anello d'Oro. Ma che cosa si intende per città dell'Anello d'Oro? L'Anello d'Oro è un itinerario di circa 700 chilometri ecco nella sua complessità che si trova a est di Mosca e che unisce diciamo alcune delle città gioiello più più belle della della provincia della Russia e città che costituivano diciamo il fondamento, diciamo la base di quello che fu lo stato della Russia. Quindi in queste città è nata proprio la storia della Russia e attraverso i loro cremini, le loro cattedrali e i loro monasteri insomma si è fondata poi lo stato lo stato russo e dobbiamo ricordare appunto che mentre queste città erano già fiorenti e potenti all'epoca la città di Mosca era poco più che un villaggio. Quindi insomma questo per far capire quanto appunto fossero proprio importanti. Ma quali sono le città che costituiscono l'Anello d'Oro? Allora le città sono varie ecco sono parecchie. Le principali, quelle che abbiamo anche incluso nei nostri itinerari dedicati all'Anello d'Oro sono principalmente Vladimir, Suddal, Kostroma, Yaroslav, Rostov-Veliki, Sergei Passad e Uglic. Molte di queste città sono state dichiarate dall'UNESCO, Patrimonio dell'Umanità e nel dettaglio poi appunto il monastero della Trinità di San Sergio a Sergei Passad, i monumenti bianchi, le chiese bianche di Vladimir e Suddal e il centro storico della città di Yaroslav. Queste città diciamo in questa zona quindi in questo anello che si trova a est della città di Mosca appunto nasce la storia della Russia perché è qui che nel V secolo dopo Cristo arrivano gli slavi d'Oriente così sono chiamati anticamente i russi e si insediano insomma in un territorio che va dal Mar Nero risalendo tutto il fiume del Niepre fino diciamo al nord del paese. Si alleano con una popolazione vicina che sono i Variaghi, una popolazione diciamo svedese come i vichinghi, come i normanni e fondano grazie a questa alleanza con questa popolazione il primo stato della Russia quindi proprio il primo stato della Russia nasce eh nasce qui. Come dicevo diciamo queste popolazioni arrivano lungo il fiume Dniepre che è una che fu insomma fin nell'antichità una via commerciale molto importante quindi se mentre verso oriente abbiamo la via della seta ecco la via che va dal Mar Nero fino al nord della Russia era un'altra importante via commerciale e per questo queste popolazioni che fondano appunto lo stato della russa eh fanno un patto con Costantinopoli e proprio per proteggere diciamo le carovane che portavano le merci dal Bar Nero fino al nord eh della Russia e mh col contatto con Costantinopoli arriva eh ovviamente la conversione di questi paesi di questi popoli slavi al cristianesimo eh lo dico velocemente proprio perché avrà un aspetto importante un po' in tutti i monumenti che vedremo durante il nostro itinerario. La Russia quindi diventa cristiana nel decimo secolo ed è proprio in queste città dell'anello d'oro appunto che si fonda diciamo il si fondano i primi monasteri che poi porteranno insomma ecco alla eh affermazione dello stato dello stato della Russia. Eh tra l'altro i primi monaci che arrivano da Costantinopoli sono proprio quel Cirillo e Metodio che eh diciamo eh sfruttando le incisioni sulle cortecce di Betul che eh le popolazioni slave eh locali utilizzavano per i loro scambi eh inventeranno proprio l'alfabeto Cirilli. Dico insomma questo per dire insomma quanto eh anche questa cristianizzazione della Russia abbia portato poi alla creazione del loro alfabeto. Ehm l'ultimo riferimento storico è questo cioè eh l'altro grande evento che segnerà le città di cui andiamo a parlare oggi poi sarà nel eh tredicesimo secolo l'invasione dei mongoli di Gengis Khan contro il quale queste città dovranno combattere e eh che riusciranno diciamo a sconfiggere solamente dopo due secoli di eh di battaglia ecco. Ma da dove viene diciamo questo nome delle città dell'anello d'oro visto che anche in questo piccolo escursus storico non non arriva mai. Ecco direi che ehm eh proprio la 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 il caso dell'anello d'oro è uno dei primi esempi di eh brandizzazione di un itinerario turistico quindi della creazione di un brand legato di un marchio legato a un itinerario e e il nome anello d'oro appunto fu ideato da questo giornalista eh sovietico nel 1967 Yuri Bichkov che immagina di tracciare idealmente un anello d'oro che leghi tutte queste città est di Mosca eh compie questo itinerario eh e poi insomma lo racconta in una serie di articoli ecco da quel momento in poi eh il viaggio che anche noi poi facciamo nei nostri tour appunto viene proprio denominato il tour dell'anello d'oro ehm iniziamo adesso il nostro viaggio e cominciamo eh con Sergiel Passat eh cominciamo con Sergiel Passat perché è la città dell'anello d'oro che si trova più vicino alla città di Mosca infatti dista solo 70 chilometri da Mosca ed è eh l'unica città dell'anello d'oro che si può visitare infatti anche con un'escursione giornaliera da Mosca noi infatti anche nei nostri tour che non sono prettamente dedicati all'anello d'oro proponiamo sempre questa escursione proprio perché insomma consente di avere un approccio ecco anche a questo a questo mondo dell'antica russa anche già dalla città dalla città di Mosca. Ehm cosa significa Sergiel Passat? Passat eh significava borgo in nell'antico russo e e rappresentava diciamo tutte quelle attività commerciali di artigiane che erano soliti svilupparsi attorno al centro della città che era sempre il monastero. Eh del dettaglio Sergiel Passat è un è un nome diciamo che eh già conferisce l'imperatrice Caterina II alla città perché vuole dedicare la città al eh principale diciamo a uno dei principali santi della Russia che è San Sergio Radonies che infatti fonda proprio il monastero della Trinità che è uno dei tesori di eh appunto di Sergiel Passat. All'interno di di questo monastero nel quindicesimo secolo ehm operò operarono moltissimi artisti. Primo fra tutti Andrei Rubioff il maestro diciamo dell'iconografia russa che qui dipinse una delle sue eh icone più famose appunto l'icona della Trinità. Eh oggi il monastero eh ne ne ospita una copia in quanto l'originale è costudito nella Galeria Tretiakov a Mosca. Eh una piccola curiosità eh eh nel eh se non sapete oppure se non ci si ricorda appunto a chi è dedicata a una chiesa nel nella 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 religione ortodossa eh basta guardare eh l'iconostasi cioè quella parete di icone che separa la parte dei fedeli dalla parte del culto ehm l'ultima eh icona sulla destra della porta dell'iconostasi è l'icona principale quindi l'icona che trovate lì è l'icona alla quale è dedicata appunto la chiesa stessa. In questo caso è l'icona delle Trinità appunto quella di cui avevo parlato eh di eh Andrei Rubioff. Eh Serghiap Passad però per i russi eh oltre a diciamo a essere un luogo di pellegrinaggio è anche la città degli innamorati perché insomma vicino a Serghiap Passad eh eh vissero e morirono i due diciamo eh innamorati ideali più famosi della della religione ortodossa che sono appunto Pietro e Fevronia eh la cui insomma festa eh non è quella di San Valentino ma si celebra a nel mese di eh di luglio. Eh continuando il nostro il nostro viaggio ehm ci spostiamo in un'altra città e arriviamo a Rostov. Eh Rostov eh fu eh una città molto importante dal punto di vista religioso perché fu la prima diocesi quando la Russia divenne cristiana. Eh insomma il suo monumento più famoso che appunto ho voluto anche illustrare qui nella presentazione è il suo cremino. Eh il cremino di Rostov eh è sicuramente uno dei meglio conservati di tutta la Russia e anche uno dei più belli. Eh cremino in russo nell'antico russo significa fortezza e diciamo il fatto che eh insomma il fatto per cui si sia conservato così bene in realtà è dovuto appunto a una cosa particolare cioè questo cremino non fu costruito durante il periodo delle invasioni dei mongoli ma fu costruito successivamente sempre a difesa della città però non avendo necessità insomma difensive impellenti si eh si badò più insomma all'aspetto estetico e quindi insomma si produsse questo bellissimo cremino dalle mura bianche e dalle torri sovrastate come vedete dalle varie cupole d'argento che è ancora insomma uno dei più belli sicuramente di tutta la Russia. Eh tra l'altro quando si fa la visita di Rostov si può anche eh fare una passeggiata lungo lungo le mura e visitare insomma all'interno le numerose chiese e eh è molto bello anche poi c'è un bellissimo giardino all'interno che ho scelto come foto eh il giardino del Metropolita e lì eh una curiosità insomma è ancora aperto e ancora attivo il vecchio forno del monastero e quindi insomma dopo una serie di visite è possibile ancora magari fermarsi rifocillarsi un po' con i prodotti insomma del eh del forno e con le bevande che sono prodotte ancora oggi insomma dai dai monaci del eh del monastero. E continuando il nostro viaggio ehm arriviamo a Jaroslav. Eh Jaroslav eh fu diciamo la prima città eh dell'anello d'oro eh fondata sul chiume Volga e fu un importante centro commerciale quindi di scambio come avevo detto prima insomma fu una questa via anche del Volga fu una via commerciale molto importante soprattutto per quanto riguarda eh il commercio del legname eh tutte queste città dell'anello d'oro infatti si si trovano ancora adesso eh circondate da foreste soprattutto di aveti pini ma nel modo particolare di betulle e Jaroslav divenne così e così ricca diciamo che nel diciassettesimo secolo fu eh seconda solo a mosca come numero di nuove chiese quindi diciamo il fatto che venissero costruite molte chiese per insomma ingraziarsi ecco la il benevo la benevolenza insomma di Dio ecco era signo sinonimo insomma di di potenza e di ricchezza e quindi insomma questo per far capire quanto importante poi fu la eh la la città di Jaroslav. Eh qui visitiamo eh nei nostri tour il monastero della trasfigurazione che è quello che ho scelto in alto e una chiesa molto curiosa mh che è la chiesa del profeta Elia quella che ho messo sotto eh curiosa perché perché ha tre facciate completamente diverse una dall'altra per cui quando ci si gira diciamo girando eh per eh girando attorno all'edificio sembra ogni volta ecco di di trovarsi di fronte ad una eh ad una chiesa eh diversa. Eh se siete stati già in Russia e avete utilizzato le banconote e i rubli eh troverete eh anche la la insomma la statua del del principe eh di Jaroslav e proprio sulle banconote da da mille rubli insomma questo per per far capire insomma quanto questa città ecco eh fosse stata importante insomma eh gli è stata dedicata anche una eh una banconota. Ehm lasciando a Jaroslav ehm ci eh addentriamo in una delle città che più di tutte ehm eh fu eh combatté diciamo contro la eh l'invasione delle orde d'oro di Gengiskan e che è la eh città di eh Kostroma. Come vedete anche qui eh appunto ho scelto una foto eh del Cremlino diciamo di di Kostroma eh proprio a significare eh l'importanza appunto che la città ebbe contro le invasioni eh tataro-mongole. Eh una curiosità eh la città di Kostroma eh fu fondata ehm dallo stesso principe eh di Kiev Yuri Dolgoruky che eh fondò che aveva fondato cinque anni prima la città di Mosca quindi Kostroma e Mosca sono unite appunto da questo dal fatto appunto di essere state fondate dallo dallo stesso dallo stesso principe. Ehm molto bello e appunto uno dei tesori del della città di Kostroma è sicuramente il monastero Ipatievski che eh per i russi diciamo ha un ruolo molto importante eh perché vide l'origine di una delle dinastie che poi insomma ecco segnarono la storia di tutta la Russia ovvero la dinastia dei Romanov. Infatti fu in questo monastero che venne eh venne proclamato zar il sedicenne Michele Romanov che venne incoronato come Michele I. Eh caso vuole che appunto durante una eh nel 1913 quindi molti anni dopo proprio per eh festeggiare diciamo l'anniversario di questa intoronazione del primo zar Romanov a Kostroma eh si recò anche quello che sarà poi invece l'ultimo degli zar Romanov ovvero eh Nicola eh Nicola II. Quindi insomma ecco eh come sapete forse come non sapete insomma ecco in Russia eh da qualche da qualche decennio insomma ecco c'è un grande sentimento nostalgico verso verso i verso lo verso la famiglia Romanov e verso gli zar quindi insomma ecco a Kostroma eh ecco si si celebra ancora appunto la dinastia dei dei Romanov e quindi Kostroma viene definita proprio come la città dei Romanov ehm però ecco per eh per i i bambini invece russi eh Kostroma eh ha anche un altro significato perché Kostroma è la città eh dove vive eh Snegurocchka che è appunto la fanciulla della neve questa creatura insomma che che viene dalle leggende antiche leggende slave che mh man mano nel tempo e paradossalmente proprio in epoca sovietica viene diciamo definita viene commercializzata come la eh la nipote di nonno gelo cioè colui che nelle notti di capodanno insomma ecco porta i regali ai bambini ai bambini russi quindi insomma ecco una piccola curiosità nel caso si abbia anche magari qualche famiglia eh con dei bambini piccoli insomma ecco si può organizzare nel nel tempo che che c'è nel tempo libero insomma anche una così una una visita al museo perché c'è proprio un museo dedicato insomma ecco alla fanciulla alla fanciulla della neve. Lasciando Kostroma ehm ci avviciniamo al cuore diciamo del del nostro itinerario alle città di Sustal e alla città di Vladimir. Eh Sustal è eh chiude in se stessa proprio proprio quello che ho detto la quintessenza quello che ho scritto la quintessenza della Russia ecco il eh Sustal è stata proclamata come Vladimir patrimonio dell'umanità per l'insieme dei suoi edifici e eh ed è proprio la la città museo quasi insomma ecco dove si può davvero respirare quello che era eh l'atmosfera della Russia antica di questo antico principato insomma ecco che ha fatto la storia del eh la storia del paese ehm da non perdere appunto in questo in questa visita di di Sustal che è anche un importante luogo di pellegrinaggio ecco per tutti eh i cristiani ortodossi russi eh sicuramente il Cremlino eh il monastero Pokrovski e il monastero Spasso Efimieschi e eh però abbiamo scelto anche nei nostri itinerari a Sustal di eh includere un'altra visita eh una visita che ci permette insomma che permette a chi si eh approccia insomma a questo itinerario di avvicinarsi anche a quella che è la cultura eh rurale contadina più più antica e diciamo sincera di questi di questi territori eh fuori dalle grandi città ovvero il monastero della dell'architettura linea eh in questo monastero che ho appunto di cui ho messo una una piccola foto insomma ecco sono state eh riportate ehm le gli edifici alcuni edifici originali eh sia di abitazioni contadine sia di abitazioni diciamo di eh persone più benestanti e e si è voluto anche diciamo rappresentare tutto quello che era l'edilizia in linea che era un importante insomma aspetto della dell'architettura della Russia rurale eh che era appunto che girava era legata alla all'attività agricola quindi si trovano mulini, mulina vento eh si trovano granai, granai su palafitte e poi eh proprio tipica costruzione insomma ecco della campagna russa anche le chiese in legno. Una particolarità di queste chiese è che molte di queste chiese sono costruite senza chiodi quindi insomma solamente con una forma di incastro quindi poi ecco il museo è un museo diciamo etnografico all'aperto quindi insomma anche abbiamo voluto inserirlo nelle viste proprio anche proprio per così permettere di eh avvicinarsi a questa cultura e insomma e vivere anche questo aspetto della eh della Russia del dell'anello d'oro eh passeggiando per diciamo all'interno del creminino di Susdal sicuramente se si guarda verso l'alto si trovano eh si possono vedere molte cupole colorate ecco però eh una cosa particolare che questo vale un po' per tutta per tutta la Russia è se eh vedete una chiesa che ha delle cupole azzurre con delle stelle dorate questo significa che è una chiesa dedicata alla Vergine Maria ecco quindi queste cupole blu con le stelle dorate stanno proprio a significare le chiese dedicate a Maria ed è insomma così una simbologia insomma ecco per così per ricordare una una serie insomma una dedizione ecco alla alla Vergine Maria insomma che la religione ortodossa ha sente molto molto forte insieme a Susdal come ho detto l'altro grande diciamo ehm centro del dell'anello d'oro è Vladimir eh Vladimir è stata proprio per per molti molti anni la capitale dell'antica Russia e quindi insomma aveva un ruolo notevolmente importante ecco c'erano eh a Vladimir c'erano più di sessanta cattedrali insomma questo per eh far capire insomma quanto fosse importante eh importante la città a Vladimir furono incoronati quasi tutti insomma moltissimi principi della della russa antica e in modo particolare insomma ecco tra eh tra i tesori che 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 abbiamo insomma che abbiamo scelto di includere nelle nostre visite a Vladimir eh ci sono il monastero Spiensky perché al suo interno ci sono dei resti quasi unici di affreschi proprio di Andrei Rubloff quindi non icone ma proprio eh dei resti di affreschi molto belli ehm c'è un bellissimo edificio che è questa chiesa di San Demetrio che appunto ho indicato in basso a sinistra che ha tutta una facciata interamente scolpita di alto rilievi basso rilievi con tutta una serie di figure sacre mitologiche tratte dai bestiari medievali quindi insomma è quasi un'ontologia a cielo aperto di 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 tutta una parte della cultura della cultura medievale e poi come diciamo simbolo della della città capitale che si è difesa anch'essa da dalle invasioni di Gengis Khan eh la bellissima eh porta d'oro appunto questo bastione fortificato costruito nel dodicesimo secolo eh che è insomma un bellissimo esempio di architettura difensiva insomma e direi che insieme al cremlino di Rostov insomma è uno dei più degli esempi insomma ecco di questo tipo di eh di architettura ma eh Vladimir proprio per il suo ruolo di diciamo antica capitale del eh della delle città dell'anello d'oro ehm ospitò per moltissimo tempo anche eh diciamo l'icona più venerata in assoluto di tutta la Russia questa icona della madre di Dio ehm che fu dipinta diciamo originariamente a Gerusalemme e che venne donata dall'imperatore di Bisanzio a uno dei principi della dell'antica Rus nel suo viaggio verso la casa di questo principe i cavalli che portavano questa icona si fermarono a sud e non volero andare avanti quindi si colse diciamo questa questa cosa come un segno che l'icona doveva rimanere a Vladimir e le insomma le narrazioni le cronache del tempo eh narrano che appunto di fronte a questa icona di fronte alla quale venivano incoronati i principi russi ehm fossero poi successi numerosi miracoli tale era la fama di questa icona che quando nei set ma più avanti eh la città di Mosca viene assediata dai dai mongoli il principe di Mosca pretende ordina che questa icona così eh dei miracoli eh venga portata a Mosca per proteggere la città l'icona viene eh portata a Mosca e eh i mongoli vengono sconfitti e diciamo da quel momento ecco eh proprio l'icona della madre di Dio di Vladimir diventa l'icona protettrice di tutta di tutta la Russia anche questa icona eh oggi è conservata nella galleria Tretiakov ecco una piccola parentesi la galleria Tretiakov appunto questo bellissimo museo di arte antica è inclusa nei nostri tour insomma proprio per l'importanza delle opere che ospita quindi insomma ecco abbiamo ritenuto di includerla sempre nei nostri nei nostri viaggi e l'ultima delle città che ho voluto inserire in questo diciamo itinerario eh così breve itinerario dell'anello dell'anello d'oro è la città di Uglic la città di Uglic è in realtà una new entry nell'anello d'oro perché ehm è stata inserita diciamo ufficialmente nell'itinerario solo qualche anno fa eh è una città che è costruita costruita diciamo su una ansa molto stretta del del Volga come potete vedere dalla 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 foto infatti eh Uglic deriva dalla parola russa antica Ugol che vuol dire angolo ecco fu un'importantissima città eh commerciale anche questa e quindi con un bellissimo cremlino eh una bellissima cattedrale della trasfigurazione ma diciamo ehm la cosa più più curiosa insomma ecco che si può eh ricordare di Uglic è sicuramente appunto la la chiesa eh del principe Dimitri sul sangue che è diciamo eh stata inaltata in onore del del figlio di Ivan il terribile che qui fu ucciso in maniera diciamo misteriosa eh non si sa se fu ucciso con un pugnale durante una lotta accidentale o se eh fu invece ucciso per delle lotte di potere tant'è insomma ecco che per i russi ancora ecco Uglic è la definita la la città del mistero e talmente eh diciamo è rimasto questa questo mistero insomma ecco questa morte misteriosa nella storia della città che proprio nello stemma della città eh c'è un eh raffigurato un un ragazzo insomma che ha in mano un pugnale quindi insomma ecco per dire quanto le leggende ecco quanto la Russia sia eh profondamente legata alle proprie alle proprie leggende ma Uglic è anche la città della vodka perché eh a Uglic è nato Pietro Smirnoff insomma la la vodka Smirnoff per per tanto tempo insomma è rimasta eh come una delle vodche più più conosciute insomma anche sul mercato internazionale e infatti ecco la cosa interessante del museo al di la della ecco della della delle spiegazioni insomma sulla eh produzione di come viene prodotta la questa più famosa bevanda eh alcolica della Russia proprio la cosa molto bella sono tutti gli oggetti che sono diciamo legati a questa bevanda quindi le etichette le antiche bottiglie insomma è un bel esempio ecco di museo anche di ehm di modernariato ehm con Uglic diciamo si conclude il nostro giro dell'anello d'oro una cosa da dire Uglic è una città della città dell'anello d'oro che si visitano esclusivamente nei nostri itinerari nelle crociere fluviali quindi diciamo chi eh eh compie il viaggio della crociere fluviale oltre alle eh città che abbiamo visto prima che abbiamo visitato prima all'occasione anche appunto di eh di visitare la città di Uglic. Ehm in tutto questo viaggio insomma un po' virtuale che abbiamo voluto fare oggi brevemente delle delle città dell'anello d'oro ecco una cosa sicuramente non 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 sarà sfuggita insomma ai nostri viaggiatori che in pullman si spostano tra una città l'altra. L'anello d'oro è anche una bellissima occasione eh oltre a quella di visitare insomma ecco chiese, monasteri, cremlini di eh conoscere anche il paesaggio rurale che esiste fuori dalle grandi città e che nelle città di Mosca e ad esempio San Pietroburgo non è non si non si vede più ecco quindi diciamo spostandosi in pullman da una città all'altra si ha l'occasione di vedere quella che è la vera tundra diciamo russa questa eh immensa sconfinata distesa di pianure, boschi di betulle, eh campi di grano insomma ecco una natura davvero grande e e incontaminata e in mezzo diciamo a queste a queste lande eh di sicuro eh cercerà la possibilità anche di vedere eh alcune costruzioni tipiche in legno e queste costruzioni sono dace, sono izbe, dacia e izba sono la stessa cosa? Direi proprio di no e adesso andiamo a vedere perché eh la dacia è in realtà una eh diciamo una creazione abbastanza recente intanto è eh una particolarità che direi è solo diciamo solo russa e mh la dacia era diciamo il significato della parola dacia significa qualcosa che viene regalato, qualcosa che viene donato ed infatti la eh diciamo la l'origine della dacia come casa di vacanza appunto trova origine in eh nello zar Pietro il Grande che volle diciamo regalare ai suoi eh fedeli nobili più insomma meritevoli una casa fuori dalla dalla città dove poter trascorrere diciamo i mesi estivi in campagna eh molte sono le dace insomma di diversi tipi di diversa grandezza molte le dace anche dove vissero e scrive iscrissero numerosi scrittori come esempio eh la la dacia di Pasternak ecco ehm ed è ancora oggi però la dacia una eh abitudine dei russi quindi molti russi eh posseggono una dacia in campagna che magari era la dacia dei nonni dei genitori e se vi capita diciamo di uscire da Mosca o San Pietroburgo al venerdì sera sicuramente vi troverete incolonnati perché tutti i russi diciamo eh escono dalla città escono dal caos della città e si rifugiano in campagna ecco dove possono vivere all'aperto molto spesso hanno i loro orti i loro armi da frutta che poi insomma eh per produrre frutta e verdura che poi si portano insomma a casa e dove vivono e stanno all'aria aperta insomma ecco quindi è proprio una tradizione che abbastanza recente che però è ben radicata all'interno appunto della della tradizione culturale russa ehm quindi la dacia diciamo è proprio il posto dove trascorrere il weekend dove cucinare all'aria aperta i famosi sheslik e gli spiedini ecco o dove coltivare i cetrioli che sono la verdura must ecco della della cucina russa tant'è che a Suddal si svolge anche proprio un festival del cetriolo e insomma dove stare all'aria all'aria aperta eh se la dacia però è diciamo la così la la casa più recente più moderna della campagna russa non così è la l'izba l'izba era proprio la casa tradizionale la casa antica insomma ecco costruita in legno di abete rosso in legno di pino originariamente con il tetto di paglia quindi la la casa proprio dei contadini delle persone che vivevano in campagna eh l'interno era sempre tutto in legno e era costituita da un'unica stanza eh dove si trovava insomma dove tutta la vita girava intorno alla stube alla stufa ecco se vedete l'interno insomma ho messo delle foto eh ricorda un po ecco certi masi dell'alto abige un pochino no ecco questo quindi insomma questo questa ambientazione davvero rurale eh intorno alla stube appunto si svolgeva la vita con dei contadini e nella stube la leggenda diceva che si eh abitasse anche lo spirito protettore della della famiglia uno spirito buono che però insomma ecco era sempre diciamo uno spirito laico e quindi eh la stube era costruita da una parte dalla parte opposta della stube c'era invece un angolo sacro dove si metteva l'icona diciamo protettrice della famiglia e sotto la quale poi di solito eh si sedeva il capo famiglia insomma che era il vero diciamo capo di di tutta la famiglia ehm Lisba quindi è proprio una una costruzione antica che è rimasta poi eh nel folclore eh della della Russia tant'è insomma ecco che è presente in tantissime fiabe e la eh la stessa strega più famosa della 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 cultura insomma russa la strega Baba Yaga infatti vive diciamo una in una isba con delle zampe di gallina insomma quindi per so per dire quanto queste costruzioni poi sono state così eh rimaste nel 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 folclore delle della gente eh di solito vicino sia alle dace che alle isbe eh se appunto viaggiate durante il tour dell'anello d'oro vedete anche un'altra costruzione in legno ehm che è la quella della Bania eh Bania era l'antica sauna russa diciamo la sauna più autentica molto spesso eh quando si costruiva una casa si cominciava dal costruire la Bania e poi si costruiva la casa eh come tutti i popoli del nord diciamo eh la per i russi la la Bania e quindi la la pratica diciamo della sauna era come una pratica di rinascita di di purificazione ecco e quindi insomma aveva un ruolo molto molto importante eh la Bania originale della della Russia era la Bania nera questo perché le prime banie non avevano il comignolo e quindi diciamo una volta che insomma si accendeva la sauna poi con con il fuoco il fumo non usciva e quindi insomma dipingeva colorava di nero tutte le pareti della 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 Bania poi insomma si aggiunse il cammino e quindi insomma si passò dalla così dalla dalla Bania nera alla alla Bania bianca ecco tutte queste insomma questo piccolo excursus anche sulla così sulla sull'aspetto più rurale proprio per dire che questo tour insomma consente di avvicinarsi anche a un altro aspetto ecco della Russia eh io a me piace ricordare insomma come la Russia sia un paese che magari eh non è un paese che proprio arriva eh subito a chi a chi lo sia a chi si avvicina a esso però insomma ecco ci vuole un po' di tempo però insomma ecco la Russia eh così un paese dalle tradizioni molto forte un paese molto attaccato alle sue tradizioni che si fa scoprire a poco a poco insomma e quindi diciamo l'occasione di questo tour dell'anello d'oro è anche quella proprio di eh così di conoscere un altro aspetto della Russia che altrimenti nelle solo grandi città insomma ecco magari non viene fuori ehm direi che a conclusione diciamo di questo nostro breve di questo nostro breve viaggio eh ho voluto appunto parlare della matryoshka eh la matryoshka che è insomma eh simbolo della matrona insomma la 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 contadina eh tipica russa in realtà eh che è diventato insomma poi uno dei dei simboli dell'icone della Russia non è un un oggetto molto antico perché insomma ecco pur rappresentando ecco la la maternità la fertilità eh è un oggetto molto recente un gioco un gioco recente un giocattolo recente inventato solamente alla fine del diciannovesimo secolo e portato eh all'esposizione di Parigi del 1900 e nell'esposizione di Parigi viene premiato questo questo giocattolo insomma con la medaglia di di bronzo e da allora un poi nonostante insomma la sua età recente insomma è diventato sicuramente uno dei dei simboli della della Russia ecco io ho concluso e adesso facciamo un bene abbiamo finito la prima parte adesso c'è il nostro quiz Sabrina la puoi lanciare ok allora la prima domanda dove si trovano le città dell'anello d'oro? Prima opzione a est di Mosca seconda opzione a ovest di San Pietroburgo terza opzione vicino a Kazan lascio allora non c'è non non bisogna no aspettate c'è qualche indecisione allora il 94 per cento ha risposto a est di Mosca il 4 per cento a ovest di San Pietroburgo e l'1 per cento vicino a Kazan direi a est di Mosca quindi bravi la seconda domanda qual è il significato autentico di Cremlino risposta a città risposta b fortezza risposta c palazzo allora l'1 per cento ha risposto città il 90 per cento fortezza e il 9 per cento palazzo è fortezza è la risposta giusta la terza ed ultima domanda come si chiama la sauna tipica rossa risposta a izba risposta b dacia risposta c bania allora l'89 per cento ha risposto bania il 7 per cento dacia e il 4 per cento izba allora bania è la risposta corretta ok Marta andiamo avanti e finiamo con la presentazione del nostro prodotto certamente allora dove trovare nel nostro sito il tour dell'anello d'oro nella home page appunto tra le destinazioni nella destinazione russa russia appunto troverete i nostri viaggi dedicati all'anello d'oro i viaggi che sono anche nel catalogo sia diciamo il catalogo generale europa europa e mondo sia poi nel monografico dedicato appunto alla russia alle baltiche alla scandinavia e all'islanda dove ci sono tutti i nostri itinerari dedicati all'anello d'oro il prodotto diciamo anche sul prodotto dell'anello d'oro diciamo il prodotto dell'anello d'oro si coniuga diciamo come a tutti gli altri viaggi boscolo in tre modalità sicuramente la prima è quella dei viaggi guidati appunto i tour di gruppo esclusivi boscolo con l'accompagnatore e penso insomma ecco voglio sottolineare quanto è importante in un viaggio di questo tipo insomma in una destinazione poi soprattutto come la russia la presenza di un accompagnatore parlante italiano non di un assistente ecco ma di un accompagnatore che vi segue che segue insomma i clienti per tutto per tutto il viaggio ecco ovviamente come in tutti i nostri viaggi guidati c'è la possibilità anche di diciamo avere la formula only land il prodotto appunto anello d'oro è presente anche con i viaggi individuali quindi noi diamo dei suggerimenti di itinerario che servono appunto da spunto però ecco vogliamo precisare che tutto il prodotto individuali di boscolo è altamente tailor made quindi insomma con la possibilità di essere personalizzato insomma veramente al cento per cento tra l'altro ecco stiamo studiando anche nuovi itinerari proprio sull'anello d'oro per i viaggi individuali e quindi insomma ecco troverete al di là di quello che c'è già adesso insomma nuovi e nuovi programmi e poi i gruppi ad hoc quindi anche qui la possibilità di personalizzare il viaggio sia a livello di sistemazione sia a livello di data di partenza per il vostro gruppo diciamo chiuso e anche la possibilità eventualmente per gruppi più piccoli diciamo di avere una tariffa speciale per il vostro gruppo all'interno del viaggio guidato insomma ecco quindi direi che insomma il prodotto anche dell'anello d'oro insomma si declina in queste varie possibilità. Tra i viaggi guidati che proponiamo sul l'anello d'oro ci sono due tour in diciamo che vengono fatti in aereo in Pullman che sono San Pietroburgo Mosca e il grande anello d'oro di 11 giorni quindi con un inizio del tour da San Pietroburgo poi si va a Mosca e poi si fa la parte diciamo del grande anello d'oro con le città che abbiamo visto insomma durante il nostro viaggio e l'itinerà diciamo inverso quindi mostra Mosca l'anello d'oro e poi San Pietroburgo. Colgo l'occasione diciamo di questi tour per dire che abbiamo scelto nelle città dell'anello d'oro in questi in questi itinerari le sistemazioni migliori possibili ecco ovviamente essendo delle zone diciamo di non nelle città principali ecco le sistemazioni diciamo non sono tantissime ecco e a Boscolo insomma ha scelto di sicuro le migliori disponibili. Un'altra possibilità per effettuare il tour dell'anello d'oro come vi dicevo è quella della crociera floviale proponiamo la crociera sulla nave Nishni-Ninogorod e ha due itinerari anche qui da San Pietroburgo a Mosca e da Mosca a San Pietroburgo. Nella crociera come vi dicevo appunto si può visitare anche la città di Uglitz che appunto è una diciamo una chicca all'interno del del viaggio dell'anello d'oro. Nei viaggi individuali proponiamo per adesso c'è diciamo nel nel sito un unico itinerario che è questo cioè ma tra gli itinerari anzi più insomma più più richiesti il tour San Pietroburgo Mosca e il mini anello d'oro quindi con un servizio diciamo costruito ad hoc per i per i vostri clienti ma stiamo inserendo anche insomma nuovi itinerari magari per chi è già stato ha già fatto la vista di Mosca e San Pietroburgo e vuole diciamo visitare solamente la parte dell'anello d'oro quindi ci sarà insomma ecco un itinerario anche dedicato solo a Mosca e all'anello d'oro proprio ecco per fornire un così un un viaggio diciamo di approfondimento insomma per chi voglia con chi è già stato magari ha fatto con noi il tour Mosca a San Pietroburgo e voglia approfondire la conoscita della Russia. Ecco se ci sono delle domande adesso insomma sono qui. Allora sì Marta allora la prima domanda è secondo che ho perso dove sono. Allora tra gli itinerari presentati tra i pacchetti che hai appena esposto e qual è diciamo il migliore per avere un almeno un overall generale delle città dell'anello d'oro nella media? Allora quello che ha direi quello che ha più date di partenza attualmente è il San Pietroburgo Mosca e il Grandanello d'Oro però diciamo come direi che come itinerari al di là dell'ordine delle città abbiamo incluso in tutti gli itinerari tutte le città diciamo principali che abbiamo visto quindi insomma abbiamo varie date di partenza insomma e quindi direi che ognuno qualsiasi di quei di quelli di quei viaggi si riesce a pieno insomma a cogliere gli aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Ok e poi se se quando si fa la navigazione sul Volga si vede anche una parte di anello d'oro? Sì si vede anche una parte di anello d'oro adesso appunto tornando indietro ho elencato avevo elencato le città si vede Yaroslav si vede Uglic e poi si vede anche diciamo una parte di quella un'altra parte di quella russa Russia rurale di cui parlavamo prima e soprattutto per quanto riguarda Chigi e Mandroghi quindi insomma ecco ovviamente è un viaggio diverso la crociera perché è un viaggio insomma più più lento meno diciamo meno stressante ecco magari di un tour di gruppo che ha dei tempi un tour in bus che ha dei tempi un po' più un po' più concitati però insomma ecco direi che insomma anche in questo viaggio si riesce da pieno poi dal fiume insomma è un modo di di conoscere il paese da un altro punto di vista insomma. Ok e poi se in ogni pacchetto è previsto il visto e se è comprensivo anche di crociera? Il visto di crociera? No domande separate se nel pacchetto la guadazione è prevista anche la richiesta del visto e se ogni pacchetto di boscolo comprende la crociera? No allora la crociera insomma il tour della crociera sono due due tour proprio dedicati quindi non si dorme in hotel ma si dorme sempre a bordo della motonave quindi sono proprio due le crociere sono due tour dedicati a sé stanti e anche qui ovviamente diamo l'assistenza per l'ottenimento del visto così come diciamo nei nostri dei tour di Mosca San Pietroburgo e l'Anello d'Oro. Ok e l'ultima domanda una precisazione sulle sistemazioni di che categoria sono previste? Allora sono hotel vanno dal quattro stelle turistico diciamo molto spesso nell'Anello d'Oro sono diciamo degli hotel di categoria turistica abbiamo sempre cercato di comunque di scegliere quelli che fossero nel centro diciamo più vicini al centro della città proprio per mantenere diciamo quella centralità che è proprio una caratteristica dei nostri dei nostri tour. Ok e Marta ti ringrazio a questo punto le domande sono terminate e ripasso la parola a Salvatore. Grazie. Benissimo abbiamo terminato e grazie Marta come al solito è un piacere sentirti e confermo che nella scelta degli hotel scusa Marta faccio una situazione e quello che cerchiamo di fare in generale sul catalogo su tutti i nostri cataloghi e destinazioni ma in Russia in particolare cercare delle strutture molto centrali e fa parte un po' della nostra diciamo del nostro posizionamento chi è stato con noi in Russia in particolare Mosca o San Pietroburgo ha potuto toccare con mano l'estrema centralità dei dei nostri hotel e se questo questo è un valore e soprattutto in città come Mosca e San Pietroburgo dove farsi una passeggiata per esempio in Piazza Rossa uscendo a piedi dall'hotel è estremamente piacevole Marta non so se me lo puoi confermare. Direi fondamentale visto che insomma contrariamente alle città dell'anello d'oro Mosca e San Pietroburgo sono due città che hanno un traffico molto importante quindi insomma avere un hotel un ottimo due ottimi hotel poi a Mosca e San Pietroburgo in centro direi che è un plus molto valido. Benissimo abbiamo finito anche oggi vi ricordo il prossimo appuntamento che sarà per il venerdì 15 maggio parleremo della Provenza avremo il nostro responsabile di prodotto ma la venerdì prossimo avremo anche un ospite come al solito non vi dico chi sarà l'ospite ma vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 14. Buon weekend a tutti e grazie. E buon pomeriggio a tutti grazie alla prossima.